E' qui a Messina e ci dà molto onore e responsabile nazionale di Celebrity Cruise Italia che ci presenterà per bene questo prodotto. Qualsiasi domanda chiaramente possiamo farlo alla fine della presentazione. Vi ringrazio ancora una volta, un applauso lo faccio io. Albert Tour per noi da anni ormai rappresenta un punto fermo in quest'area della Sicilia in quanto la Sicilia in questi anni ci ha dimostrato veramente un gran bene alla nostra compagnia. Celebrity Cruise è la secondo brand della Royal Caribbean International, è un marchio di lusso ma lusso in questo tipo di crociera si è praticamente liberato di tutte le eccedenze e mantiene solo l'essenza del lusso. Siamo qui per presentare la Celebrity Reflection e in particolare la serie Sostis. Parliamo di Modern Luxury. Come si può parlare oggi in un periodo di crisi di Modern Luxury? Assolutamente si può parlare perché devo dire che in questo periodo proprio perché in un momento di crisi la gente ha intenzione di spendere i soldi e di spenderle bene. Quindi può investirli e deve investirli in un prodotto di lusso per avere nel nostro caso una vacanza indimenticabile e irripetibile. Soprattutto concentrata, come diceva lei, sul Modern Luxury. Quindi non solo una questione di prezzo ma un bagaglio di emozioni che la nostra compagnia vuole trasmettere al nostro ospite finale. Qual è la vostra utenza principalmente? La nostra utenza è sicuramente un'utenza molto varia. Le nostre navi sono navi innovative, quindi ospitiamo giovani coppie in viaggio di nozze. Abbiamo un target medio diciamo di età tra i 40 e i 50 e soprattutto abbiamo anche navi prodotti per persone che hanno la possibilità di rimanere fuori casa anche per lunghi periodi con la nostra linea extra lusso a Zamara dove andiamo a colpire il nostro ospite più danaroso e più facoltoso pronto a questo tipo di prodotto. Qualcosa, una caratteristica che possa invogliare ad aderire a questa lucera? Sicuramente l'alta tecnologia delle navi, l'innovazione delle navi, la gentilezza del nostro personale, la prelibatezza del nostro cibo ma soprattutto la possibilità di usufruire di un prodotto di lusso con una tariffa assolutamente abbordabile, avvicinabile ad un mercato di clientela che vuole approcciare questo tipo di mercato. La Sicilia come rientra in questo percorso? La Sicilia ha una tradizione croceristica molto importante e devo dire che in questi anni ci ha dimostrato un gran bene nonostante una forte concorrenza ma siamo riusciti a prendere una fetta di mercato siciliano e abbiamo intenzione di tenercela ben stretta e di allargare questa fetta a persone che ancora il nostro brand non arriva. In particolare a Messina su quale agenzie vi poggiate? Sicuramente noi ci poggiamo su agenzie che hanno una storicità nel territorio, in questo caso Albertour di Messina, un'agenzia diretta veramente con grande professionalità dai due fratelli e che in questi anni ci hanno dato prova di fiducia, di affidabilità e quindi è importante che la Royal Caribbean Celebrity Cruises Alzamara Club sia pronta ad investire su questo tipo che per noi sono dei clienti importanti come Albertour. Grazie a tutti.